Qualche mese fa Gore-Tex ha lanciato sul mercato una nuova membrana Gore-Tex EPE Nuova membrana che va a rispettare tutti quelli che sono i nuovi standard ambientali È arrivato però il momento di mettere alla prova questa membrana a vedere quanto veramente è impermeabile Oggi infatti siamo all'undicesima uscita con questa giacca che è la Rab Namke Che è una delle prime che è uscita con questa membrana Piove e andiamo a vedere un po' come si comporta questa nuova membrana Gore-Tex Grazie a tutti Dunque eccoci qua È passata più o meno un'ora e mezza da quando sono partito Ho preso un'ora e mezza d'acqua praticamente Andiamo a vedere com'è messa la giacca Come potete vedere ha cambiato colore Cioè abbiamo delle parti che sono diventate completamente marroni Arancione scuro E delle parti che invece sono rimaste arancione nel colore originario Che differenza c'è tra queste due parti? La parte arancione che è rimasta normale vuol dire che la giacca non si è inzuppata Nella parte marrone invece la giacca è andata completamente a impregnarsi d'acqua Infatti se io andassi a strizzare verrebbe via tutta l'acqua che si è impregnata nella giacca Ma cosa succede quando si impregna l'acqua nella giacca? Beh come sappiamo l'aria non passa attraverso l'acqua quindi praticamente non c'è più traspirabilità Infatti adesso vado ad aprire la giacca insieme a voi per la prima volta non ancora aperta Come potete vedere vi faccio vedere dentro c'è praticamente tutta la condensa Cioè dentro è completamente bagnata E questa è condensa cioè la stessa condensa che troviamo sulle tende al mattino per intenderci Perché è successo l'aria non poteva più uscire Quindi nella parte interna ha fatto condensa e il mio sudore non è riuscito Quindi io sì sono bagnato ma non perché la membrana non abbia tenuto Infatti se la membrana avesse tenuto in questo momento io sarei fra 10 da testa e piedi Cosa che non sono, sono solo sudato Vi faccio vedere, ecco guardate per esempio qua Guardate lo stacco tra dove sono sudato e dove non sono sudato Non proprio casualmente poi le parti in cui sono sudate sono quelle in corrispondenza di dove la giacca era marrone Questo perché non traspirando il sudore è rimasto all'interno e io mi sono sudato Dunque questo è il primo test dopo un'ora e mezza E come abbiamo visto la giacca presenta già delle grosse criticità Io adesso mi cambio perché sono veramente sudato Mangio qualcosa poi continuiamo e torniamo alla macchina Eccoci dunque tornati alla partenza È passata all'incirca un'ora da quando sono ripartito al rifugio E siamo a due ore e mezza da quando ha iniziato il test Vi faccio vedere la giacca È completamente bagnata Completamente zuppa Non c'è più un punto che praticamente non sia completamente impregnato d'acqua Detto ciò però adesso noi torniamo in studio così analizziamo qualche successo durante questo test Eccoci tornati in studio è arrivato il momento di capire cosa è successo a questa Rabnamke con la nuova tecnologia Gore-Tex EPE Iniziamo per quanto riguarda l'impermeabilità Direi che da questo punto di vista test più che superato Ho preso due ore e mezza di acqua con dei momenti in cui veramente veniva giù Bella fitta, veramente pioggia torrenziale E devo dire che l'acqua non è mai entrata Quindi dal punto di vista dell'impermeabilità Gore-Tex ha fatto un'altra membrana che resiste veramente molto bene all'acqua Il problema l'abbiamo avuto sulla traspirabilità Qui per capire il problema bisogna fare un passo indietro Vi ricordate all'inizio del video quando vi ho detto che Quesla sarebbe stata l'undicesima uscita con questa giacca Ecco vuol dire che io avevo già utilizzato per dieci volte questa giacca sotto l'acqua Per un totale di circa una cinquantina di ore di cui di queste 50 ore un 42-43 ore tutte sotto l'acqua Cosa è successo durante il periodo di test prima di questo video? Che l'acqua che ho preso, la pioggia che ho preso è andata a lavare via completamente il trattamento DVR Se non sapete cos'è il trattamento DVR ci ho fatto un video apposto, lo lascio qua in alto a destra Ma generalmente, giusto per fare un riassunto, il trattamento DVR è un trattamento chimico che si fa sulla giacca Per far sì che l'acqua scivoli via e la parte esterna della giacca non vada a inzupparsi Come abbiamo visto a me si è completamente inzuppata Questo vuol dire che il trattamento DVR era praticamente finito E giusto per chiarirci, io ho voluto comunque portarla alla decima uscita per fare il video, per tenere uno standard Ma vi assicuro che già alla settima uscita era da rifare il trattamento Dunque cos'è successo? L'acqua non scorreva più via dalla giacca L'acqua si è impregnata nella giacca A questo punto la traspirabilità è diventata zero E tutto il calore che io emanavo facendo l'attività non usciva più Quindi condensa, quindi ho iniziato a sudare Quindi praticamente all'interno mi sono lavato un'altra volta Ma non perché la giacca non fosse impermeabile Ma perché la traspirabilità era diventata praticamente zero Dunque arrivato a questo punto la giacca è praticamente inutilizzabile Cioè dopo mezz'ora che sei sotto l'acqua inizi a sudare e a fare la sauna E cosa si fa? Non si butta la giacca, assolutamente Bisogna comprare una di quelle bombolette, di quegli additivi Che vanno a far riapplicare il trattamento DVR In questo modo la giacca tornerà praticamente come nuova Però come abbiamo visto questi trattamenti DVR nuovi Tendono ad andare via veramente molto in fretta Io dopo all'incirca un 30-35 ore di utilizzo Quindi quando ero già alla sesta-settima uscita Avrei già dovuto riapplicare il trattamento Ma dunque qual è la vera rivoluzione di questa nuova membrana EPE? Perché naturalmente se Gore-Tex l'ha presentata Ci sarà anche un qualcosa di nuovo L'aspetto completamente rivoluzionario non è visibile ad occhio nudo Non è visibile ad occhio nudo perché riguarda tutto quello che è l'emissione ambientale Infatti Gore-Tex ha dichiarato che per fare queste nuove membrane EPE Va a consumare molte meno energie nel momento in cui va a produrla E questi nuovi trattamenti DVR senza PFC Fa' sì che quando il PFC non si disperda nell'ambiente Fa' sì che questi perfluorati non vadano a intossicare le nostre acque Di contro però come abbiamo visto sono molto meno durevoli rispetto al passato Quindi dunque il grosso vantaggio non lo vediamo ad occhio nudo Ma è tutto ambientale Tutto nel rispetto dell'ambiente Tutto per andare a inquinare sempre meno il nostro pianeta Detto ciò ragazzi adesso sapete qual è il grosso pregio Ma anche qual è il difetto di queste nuove membrane EPE Adesso sta a voi farmi sapere qua sotto nei commenti Se per voi questa membrana è veramente rivoluzionaria Oppure solamente marketing Quindi aspetto le vostre risposte qua sotto nei commenti E nella speranza di avervi aiutato a capire questa nuova membrana EPE Vi ringrazio per aver guardato anche questo video E noi ci vediamo al prossimo Ciao